in tre fatti specie per comodità mia anche un po' di rappresentazione. Abbiamo una forma di protezione speciale che si applica in tutti quei casi in cui il richiedente in caso di allontanamento dall'Italia avrebbe un rischio di persecuzione per una serie di fattori protetti o perché potrebbe essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Abbiamo una seconda forma di protezione speciale dovuta a tutti quei casi in cui l'allontanamento potrebbe portare a una violazione di obblighi costituzionali o obblighi internazionali dello Stato italiano e una terza forma di protezione speciale che invece è quella legata alla vita familiare e privata del richiedente. Ora partiamo dalla prima che diciamo che è quella originaria perché noi vediamo comparire questo questo istituto della protezione speciale nell'ottobre del 2018 quando il legislatore italiano tramite quelli che avevano chiamati i decreti sicurezza spazza via dal nostro ordinamento la protezione umanitaria e la sostituisce seppur impropriamente con una serie di istituti tra cui compare la protezione speciale. Qui c'è una situazione, un cambiamento veramente radicale perché noi passiamo da una protezione umanitaria che era un istituto aperto che racchiudeva al suo interno non un'elencazione delle fatti specie a cui si applicava ma veniva definita una clausola di salvaguardia del sistema perché andava a tutelare tutte quelle vulnerabilità che non trovavano una protezione degli istituti della protezione internazionale. Questa clausola aperta che nel corso degli anni aveva sempre più acquisito importanza eh nel duemila e diciotto quando viene abrogata le commissioni territoriali avevano riconosciuto ventiduemila protezioni umanitarie. Le protezioni umanitarie solo in già in fase amministrativa erano il ventitré per cento degli esiti delle domande di asilo. Un quarto delle domande di asilo ottenevano la protezione umanitaria. Era il settantatre per cento degli esiti positivi. Quindi è un istituto estremamente importante che viene eliminato e viene sostituito con invece una forma tipica cioè una forma di protezione che individua espressamente i propri requisiti. E questi requisiti sono che eh l'istituto si applica in tutti quei casi in cui la persona interessata se fosse allontanata dal territorio italiano rischierebbe una persecuzione per una serie di fattori elencati dalla norma che sono razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali a cui poi la riforma del duemila e venti aggiunge anche l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Oppure il rischio di in caso di allontanamento di essere eh sottoposto nel paese di verso cui la persona verrebbe espulsa a tortura trattamenti inumani e degradanti. Da subito i commentatori li levano la sostanziale identità tra questi fattori di protezione e quelli della protezione internazionale. C'è chi sostiene che forse il riferimento alle condizioni personali o sociali potrebbe in parte esondare da eh le le forme di protezione dello status di rifugiato ma a parte questo vi è una analogia tra questo istituto e quello della protezione internazionale. Allora sia la dottrina della giurisprudenza si interrogano subito su che tipo di significato possa avere questo istituto e la Cassazione già a gennaio del duemila e diciannove quindi pochi mesi dopo l'emanazione dei decreti sicurezza ci dice che questo istituto molto probabilmente troverà applicazione in tutti quei casi in cui la persona ha sì i requisiti per la protezione internazionale ma non può accedere allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria perché rientra in quelle che vengono definite cause di esclusione o di revoca della protezione. Queste nel nostro ordinamento le troviamo agli articoli dieci, dodici e sedici del decreto legislativo 251 del 2007. Allora la giurisprudenza anche internazionale in questi casi è assolutamente costante nel dire che quando opera una clausola di esclusione dello status di rifugiato la persona non può rimanere priva di tutela. Occorre che lo Stato fornisca quantomeno una tutela minima che impedisca l'allontanamento e il respingimento della persona che altrimenti verrebbe sottoposta a persecuzione o trattamenti inumani e degradanti. Vi ho citato la sentenza della Corte di Giustizia del 14 maggio 2019 e d'altro canto la Corte Europea anche nella sentenza Sadi contro Italia che affermano questo principio. Quindi la necessità di una tutela di ultima istanza tutela di ultima istanza che ci precisa il Tribunale di Cagliari con un'ordinanza del 12 gennaio del 2022 non può essere subordinata ad alcun tipo di valutazione di pericolosità sociale proprio per la sua omnicomprensività. In questa forma di protezione speciale possono rientrare quindi tutte quelle persone ad esempio ho visto un provvedimento della Commissione di Cagliari che la riconosce a una persona che un ceceno che aveva avuto condanne per terrorismo sia in Russia sia in Italia sia stato in Belgio era stato anche là interessato dalla polizia per forme di associazionismo legate al terrorismo ma a fronte dell'effettivo rischio che questa persona avrebbe avuto in caso di respingimento verso la Russia di essere sottoposto a tortura la Commissione riconosce la protezione speciale sotto questa prima forma. L'altro caso Commissione di Padova su un kurdo che era stato condannato per reati di terrorismo ma anche legati a azioni violente contro le persone. Ora la peculiarità di questa ipotesi è che il permesso per protezione speciale viene rilasciato ma in una forma meno tutelante in quanto il permesso durerà sì due anni sarà sì rinnovabile ma è un permesso che non è convertibile in lavoro e che non dà diritto all'accoglienza quindi una forma di tutela ma leggermente attenuata. La seconda ipotesi di protezione speciale è quella data dal riferimento che l'articolo 19 comma 1.1 fa all'articolo 5 comma 6 sempre del testo unico. Ora l'articolo 5 comma 6 noi lo conoscevamo molto bene perché era proprio la fonte della protezione umanitaria che veniva riconosciuta come ben ricordiamo in tutti quei casi in cui la persona anche se non aveva i requisiti per il rilascio un rinnovo di un permesso di soggiorno ordinario non potesse essere allontanata dall'Italia perché sussistevano seri motivi di carattere umanitario oppure derivanti da obblighi costituzionali o obblighi derivanti in Italia da l'esistenza di trattati internazionali. Questa parte dell'articolo 5 comma 6 viene abrogata dai decreti sicurezza la riforma dei decreti sicurezza non la rintroduce in toto introduce solamente il riferimento agli obblighi costituzionali e agli obblighi internazionali dell'Italia. Ora una parte della dottrina ritiene che questa sia una un riferimento viene definito meramente esornativo cioè fondamentalmente inutile visto che questi obblighi internazionali e costituzionali sono immanenti al nostro ordinamento. Io su questo non sono d'accordo per due ordini motivi. Uno molto pratico cioè non è cosa da nulla che la normativa ricolleghi la violazione di questi obblighi a una precisa tutela perché ci dice ci inserisce queste violazioni in un percorso di riconoscimento in un percorso di tutela giurisdizionale che altrimenti sarebbero assolutamente indeterminate. Ma vi è di più. La sezione unita in una sentenza del pubblicata nel settembre l'anno scorso fa un ragionamento molto interessante e dice ma a meno di non ritenere che questo riferimento sia meramente un orpello dice vuol dire che il legislatore sta facendo riferimento a qualche forma di tutela che non rientra espressamente nella protezione internazionale ma anche nelle altre forme di protezione speciale. Allora se noi vogliamo individuare questa forma di tutela sono quelle secondo me che vanno definite come vulnerabilità tipica cioè tutti quei casi di soggetti che hanno una vulnerabilità ma che questa vulnerabilità non è associabile né a un percorso di integrazione significativo né a forme di patologiche molto grave. Cioè quelli che una volta noi facevamo rientrare nei seri motivi di carattere umanitario ma che ora con un'interpretazione che non tenga in considerazione l'articolo 5,6 sarebbero totalmente sprovvisti di tutela cioè rimarrebbero paradossalmente sprovvisti di tutela gli ultimi quelli che hanno più difficoltà a inserirsi nel nell'ordinamento nello stato di avere un'integrazione e che non troverebbero più un permesso di soggiorno. Come ci si arriva a dar tutela a queste situazioni? Un caso mi è capitato poco tempo fa di avevamo una persona neanche giovanissima migrante passata in Libia, in Libia subisce le violenze che purtroppo subiscono quasi tutti, da queste violenze ne deriva uno stato di problematico psicologico, una depressione e soprattutto una balbuzia reattiva che non gli permette di comunicare facilmente molto legata all'emotività ma che che costituisce un deficit e che riusciamo a documentare necessita da un lato quindi di un'assistenza psicologica da un altro lato di un'assistenza da parte di un logopedista. Ora questa situazione non costituisce sicuro a mio avviso un caso di gravi condizioni psicofisica che darebbero la possibilità di chiedere un permesso per salute. Ma allora come la si può tutelare? La tutela l'abbiamo individuata facendo un riferimento all'articolo 14 della Convenzione ONU contro la tortura. La Convenzione ONU prevede in questo articolo il dovere per tutti gli stati che l'hanno sottoscritta di dare riabilitazione alle sofferenze dovute alle torture indipendentemente da il luogo in cui queste torture sono avvenute e quindi abbiamo un obbligo per l'Italia che ha sottoscritto questa convenzione e quindi possiamo andare a chiedere un permesso di protezione speciale. Ora questo lavoro sicuramente un po' articolato e complesso secondo me è uno degli spazi più interessanti che ci pone la protezione speciale. Se cominciamo a declinare questo riferimento alla normativa internazionale ad esempio per quanto riguarda tutti i trattati sulla parità di genere, tutte le norme che tendono a combattere le situazioni di grave povertà oppure adesso con la nuova riforma costituzionale sul diritto all'ambiente noi vediamo che pian piano si delineano delle situazioni su cui potremmo andare a fornire una tutela. Veniamo alla terza forma che è forse quella un pochino che ha fatto un po' più scalpore del nostro mondo di giuristi perché introduce quella che è la tutela alla vita privata e famiglia. Tutela che però è bene precisare da subito non è diretta cioè la tutti questi beni vengono tutelati nella misura in cui un allontanamento dall'Italia li comprometterebbe e quindi occorre una doppia dimostrazione. Occorre una dimostrazione che esista questa necessità di tutela della vita privata e familiare e che in caso di abbandono della persona dell'Italia questi beni non possano essere debitamente tutelati. La norma prevede anche una causa stativa che è legata alle ragioni di sicurezza nazionale, ordine sicurezza pubblica e poi prevenzione della salute probabilmente inserita perché eravamo in periodo covid e in qualche modo ci stava. Abbiamo quindi un ritorno a una forma di protezione che non è tipizzata ma è aperta a tutta una serie di fatti specie e che richiama molto evidentemente quella che è la disciplina dell'articolo 8 dell'acedo. La richiama però implicitamente perché a livello normativo non c'è alcun riferimento espresso e poi vediamo quali potrebbero essere le ragioni di questa mancanza di un riferimento espresso. Ma prima di tutto vorrei fare una assolutamente sommaria ricostruzione di quella che è la elaborazione che ha fatto la giurisprudenza accedo del diritti previsti dall'articolo 8. Partiamo dalla vita familiare. La vita familiare è stata elaborata dalla giurisprudenza accedo in una maniera piuttosto restrittiva e questo non lo dico io, lo dicono numerosi opinioni dissenzienti, di giudici che si trovano all'interno di parecchie pronunce della cellula. Perché questa vita familiare viene in qualche modo limitata a una serie di relazioni. Le relazioni col coniuge o il colpo vivente Moruxorio, le relazioni coi genitori e coi figli minori. Qui innanzitutto bisogna fare una precisazione. La tutela è di univoca, nel senso che non riguarda solo la tutela della vita familiare della persona che chiede il permesso ma del suo nucleo. Nella sentenza UNER contro Paesi Bassi la Corte riconosce il diritto alla vita familiare di un padre, ma non per il suo interesse, per l'interesse dei figli che in caso di allontanamento del padre sarebbero implicitamente costretti a seguirlo, anche se giuridicamente no, e in questo modo verrebbero compromesso la loro integrazione, visto che erano nati nei Paesi Bassi e avevano sempre vissuto. rispetto a queste tre categorie, noi possiamo dire che nel nostro ordinamento hanno già quasi tutte una tutela, tranne il coniuge, il convivente Moruxorio che non era tutelato nel nostro ordinamento, le altre forme di tutela ci sono già nell'unità familiare. Vero però che qui abbiamo una tutela incondizionata, nel senso che non ci sono requisiti di idoneità alloggiativa, di reddito, è la relazione a essere tutelata e quindi ci potranno essere tutta una serie di casi in cui la persona non rientra nel ricongiungimento familiare ma potrà vantare un diritto alla tutela della vita familiare. tutte le altre relazioni affettive, parentali, rientrano nella vita familiare solamente quando c'è un qualcosa di più, dice la giurisprudente, qualcosa di più anche della relazione affettiva. Serve un legame di dipendenza materiale. Sono i casi dei neomaggiorenni che non, dei figli neomaggiorenni che non si sono ancora distaccati dal nucleo della famiglia, che dipendono ancora economicamente dal nucleo della famiglia. Sono i casi anche di tutte quelle forme di relazione, di assistenza medica o rispetto alla presenza di endica per cui un parente si prende cura dell'altro. Allora questi tipi di relazioni rientrano ancora per la giurisprudenza CEDU nella vita familiare. Tutte le altre relazioni rientrano nella vita privata. Il concetto di vita privata nella giurisprudenza CEDU ha avuto un'enorme evoluzione, nel senso che originariamente veniva riconosciuto collegato alla vita familiare, invece pian piano se ne distacca, si espande tanto ad arrivare che la Corte edu dice è un concetto talmente ampio da non essere suscettibile nemmeno di un'esastiva definizione. Se vogliamo tracciarne qualche confine ricomprende da un lato tutte quelle relazioni che non rientrano nella vita familiare, ma dall'altro ricomprende quelle che nella sentenza Naris contro Italia vengono definite tutte le interazioni e relazioni della persona con gli altri individui nella comunità in cui vive. Viene definita il concetto di identità sociale, cioè di quella rete di relazioni personali, sociali, economiche che la persona intesse nel luogo in cui si trova. Se vogliamo far emergere un po' da alcune sentenze o qualche principio sulla vita privata, beh allora una sentenza interessante è la sentenza Silvenco contro Lettonia che è quella in cui si disancora il diritto alla vita privata da quello familiare. Era il caso di una madre di una figlia che vivevano in Lettonia, il padre che era cittadino russo, era lì ancora ai tempi dell'Unione Sovietica, viene prima espulso, quindi viene allontanato e va in Russia. In quel caso la Lettonia vuole allontanare anche madre e figlia, ma dice l'acedo indipendentemente dal fatto che la tutela della vita familiare avrebbe potuto portare nell'interesse delle minori a ricongiungere con il padre, il fatto che la figlia e anche la madre abbiano sempre vissuto in Lettonia porta a che la tutela della vita privata prevalga e quindi che loro possono rimanere in Lettonia. La sentenza C contro Belgio ci dice che rilevano anche la non solo valori economici, ma anche formazione scolastica ad esempio. Un'altra sentenza interessante è secondo me la Bat contro Norvegia. In questo caso si trattava di due minori pakistani che vivevano in Norvegia con la madre. Quando erano piccoli la madre scompare e loro rimangono da soli e vengono affidati a degli zii. Loro arrivano alla maggiorità senza sapere che di essere irregolari. Evidentemente in Norvegia non hanno questi nuovi permessi di soggiorno, non so. Si viene emergere la loro irregolarità quando uno dei due commette dei reati e la Norvegia lo vuole allontanare verso il Pakistan. Il punto è che questi non hanno mai vissuti in Pakistan. Parlano a malapena eh l'urdu se non sbaglio e comunque non hanno né su un legame. E allora la corte anche qua dice le difficoltà sociali e professionali che queste due persone troverebbero in caso di eh allontanamento verso il Pakistan li danno diritto a rimanere per la tutela vita familiare in e la vita privata in Norvegia. Ora detto questo secondo me però non si può prendere pedissequamente tutta la giurisprudenza elaborata dalla corte europea sull'articolo 8 e trasporla nel nostro ordinamento come riempimento contenutivo dell'articolo 19. Questo perché ci sono delle significative differenze tra l'articolo 8 cedu e la protezione speciale. La prima è proprio normativa. Eh se voi andate a vedere il secondo comma dell'articolo 8 cedu prevede che la il diritto alla vita privata e familiare possano essere limitate non solo per questioni di ordine pubblico come è in Italia ma anche per questioni legate alla protezione della morale dello Stato, dei diritti e libertà altrui e del benessere economico del paese. Ora ad esempio questa ultima clausola è quella che è servita alla giurisprudenza cedu per ritenere che la tutela della vita privata fosse da riconoscere solo in limitatissimi casi alle persone irregolari nel paese. La giurisprudenza cedu distingue tra persone che sono regolarmente soggiornanti e che vengono allontanate a seguito di condanne persone ad esempio spesso persone che sono temporaneamente ammesse in quanto ad esempio richiedenti asilo e persone che sono irregolari e da una disciplina della tutela della vita privata e familiare in maniera diversa in secondo queste fatti specie. La invece la disciplina italiana non fa alcun riferimento alla regolarità o meno del soggiorno. Inoltre la giurisprudenza cedu si cimenta con l'articolo 8 solamente sostanzialmente in due ambiti, quello dell'allontanamento e quello del ricongiugimento familiare. Quindi l'ha sempre interpretato in un'ottica di obbligo negativo dello Stato rispetto al cittadino e mai come un obbligo positivo che invece c'è in Italia in cui alla lesione di quei diritti corrisponde il diritto a un permesso di soggiorno. Il legislatore italiano ha infatti individuato una serie di criteri di valutazione della violazione del diritto alla vita privata e familiare molto ampi. Sono sostanzialmente tre. La durata del soggiorno del territorio nazionale e qui senza alcuna indicazione appunto della regolarità del soggiorno è il tempo trascorso quello che rileva della natura e dell'effettività dei vincoli familiari in Italia e la Cassazione aggiunge recentemente indipendentemente dalla convivenza con il familiare o con la relazione e dall'effettivo inserimento della persona in Italia. Questi tre requisiti poi vengono bilanciati con l'inserimento sociale e familiare i legami sociali della persona con il paese di origine. Allora secondo me a fronte di questo noi possiamo dire che il legislatore italiano non si è limitato a recepire l'articolo 8 ma ha fatto una sorta di ibridazione tra la tutela dell'articolo 8 e quella che era l'elaborazione giurisprudenziale che era stata fatta della protezione umanitaria per integrazione e quindi ha esteso quelle tutele riconosciute dall'ordinamento europeo anche in un'ottica di maggiore tutela del cittadino straniero che si trova in Italia. Prima parlavo di bilanciamento e visto che citiamo la protezione umanitaria noi ci siamo abituati a parlare di bilanciamento a seguito della nota sentenza che abbiamo tutti citato nelle nostre ricorsi, nelle ordinanze e la sentenza 4455 del 2018 che parlava di un bilanciamento legato alla protezione umanitaria tra l'integrazione della persona in Italia e il rischio di violazione dei diritti umani fondamentali nel paese di origine. La dico molto grossolanamente però questo era il bilanciamento che poi la giurisprudenza successiva dice può essere fatto con un sistema di comparazione attenuata perché nei casi in cui l'integrazione sia talmente elevata da rendere quasi inutile la valutazione della situazione del paese di origine. Ora questo tipo di bilanciamento non c'è più nella protezione speciale. La protezione speciale non fa nessun riferimento quella per integrazione della tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine. Secondo me a quel bilanciamento se ne sostituisce un altro che è quello tra l'integrazione sociale in Italia e i legami nel paese di origine. E anche qui potremmo ipotizzare di fare un lavoro di comparazione attenuata, cioè nel momento in cui la persona vive da tantissimo tempo in Italia, ha un'attività economica, ha dei legami sociali e familiari, allora sarà in sé evidente che i legami con il paese di origine si sono affievoliti se non sono cessati totalmente. Da tutto ciò secondo me emerge la valenza veramente rivoluzionale di questo istituto. Cioè nella nozione del diritto degli stranieri che siamo stati sempre abituati a a leggere c'era questo diritto degli stranieri che in qualche modo permetteva l'ingresso in Italia o tramite un visto quindi una prevalutazione da parte dello Stato italiano oppure in radissimi casi l'unità familiare e la protezione internazionale in cui la persona anche se non aveva un visto doveva però dimostrare di avere determinati requisiti preesistenti all'ingresso in Italia. La protezione speciale sposta il fulcro da tutela all'esistenza in Italia. Abbiamo un diritto a formazione progressiva che va a riconoscere un valore al progetto migratorio, al successo del percorso che il migrante fa in Italia in cui rileva una il concetto di integrazione sociale che non è solo lavorativo. Le sezioni unite ci dicono anche beh sì certo ci può essere il lavoro, il lavoro rileva ma può essere benissimo un lavoro a termine. Non si può chiedere al cittadino straniero di dimostrare una capacità di accesso al mercato del lavoro diversa da quella che hanno anche gli italiani ma sono anche tutti quegli altri aspetti della vita sociali, culturali, la partecipazione attività di volontariato, la le attività che svolge la persona nel paese. Perfino secondo sempre le sezioni unite fanno riferimento all'esistenza di rapporti contrattuale, un contratto di locazione è un dato rilevante in questa valutazione di integrità sociale, integrazione sociale. Esiste come dicevo prima un elemento stativo che è la pericosità per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Una valutazione che in questo caso deve essere particolarmente attenta con un obbligo di rafforzamento della motivazione del provvedimento e lo riconosce lo stesso Ministero dell'Interno che nella circolare 19 luglio 2021 copia di fatto quelli che sono definiti criteri Boltif perché provengono dalla sentenza della CEDU che è la sentenza Boltif contro Svizzera e elenca tutta una serie di parametri che vanno valutati per vedere se esiste questa pericolosità. Questi parametri sono la natura e la gravità del reato, fin qua nulla distratto, ma rileva la durata del soggiorno, rileva anche il tempo trascorso da quando è stato commesso il reato e la condotta successiva al reato e poi rilevano tutto in aspetti soggettivi del nucleo familiare. L'esistenza di una relazione con un coniuge o con un convivente, la conoscenza che aveva o meno il coniuge o convivente dell'esistenza del reato prima di formare l'unione. La nazionalità dei coniuge o dei figli, in modo da valutare se in caso di allontanamento il nucleo si potrebbe ricongiungere in uno stato oppure visto che hanno diverse nazionalità questo sarebbe impossibile. La difficoltà per il coniuge di reinserirsi nel paese in cui sarebbe respinto la persona considerata pericolosa. Vediamo, rilevano tutta una serie di parametri che non hanno nulla a che vedere con il reato, ma che hanno a che vedere con sempre la tutela della vita familiare del cittadino straniero. Il permesso di protezione speciale, tranne i casi che abbiamo visto prima di case di clausole di esclusione, dura due anni, è rinnovabile, è convertibile e dà diritto all'accoglienza nel sistema SAI. Come diceva Beatrice prima, si ottiene, si può ottenere secondo due percorsi. Il primo percorso è quello dell'asilo, quindi si presenta una domanda di asilo, la commissione territoriale se esclude l'esistenza dei requisiti per la protezione internazionale può invitare la questura a rilasciare un permesso per protezione speciale. Qui una circolare della commissione nazionale asilo di novembre duemila e ventuno ci dice che la domanda di protezione internazionale è ammissibile anche se riguarda esclusivamente la protezione speciale e questo anche in caso di reiterata. Anzi ci dice una reiterata è ammissibile anche se si fonda su elementi attinenti solo alla protezione speciale e già dedotti in una domanda precedente se quella domanda è stata esaminata prima che entrasse in vigore la riforma del duemila e venti. La riforma per quanto riguarda il regime transitorio si applica a tutti i procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma e a tutti i procedimenti anche giudiziali tranne quelli dice la norma in di cui l'articolo se non sbaglio 324 del codice di procedura civile. Qui la norma fa riferimento all'annullamento con rinvio 384 grazie. Il punto è questo io mi chiedo se benissimo che non si applica un'incassazione la riforma ma nel giudizio di riassunzione che senso ha a lettura della norma io direi che non si applica neanche la riforma al giudizio di riassunzione ma che senso ha non applicare un giudizio di merito in cui c'è la normativa è vigente quella protezione speciale vigente potrebbe essere come vedremo poi richiesta al questore che senso non applicare quello status in quella in quella fase nuova di riassunzione di merito. Non so il tribunale se il tribunale in sede di rinvio applica l'umanitaria eh sì eh sì perché interpreta letteralmente la interpreta letteralmente la la norma ma devi tu in corte d'appello non so se si ricorda l'avvocato davino si ricorda che al convegno fatto l'anno scorso era venuta fuori il problema che quella norma transitoria non parlava dei giudizi d'appello quindi sembrava che dovesse applicarsi anche lì l'umanitaria addirittura che ci eravamo interrogati ma è costituzionale una roba del genere probabilmente no e quindi insomma comunque sì noi tendiamo ad applicare eh a fondarci diciamo su un esegesi strettamente letterale della norma anche perché riteniamo che non ci sia una reale differenza dal punto di vista applicativo tra speciale e umanitaria per quanto la speciale sia addirittura c'è addirittura che dice che sia maglie più larghe addirittura dell'umanitaria e se fosse così si aprirebbero una serie di considerazioni ecco grazie il secondo binario per ottenere la protezione speciale è quella di chiederla direttamente al questore e questa domanda può essere o diretta nel senso che la persona si rivolge al questore per chiedere la protezione speciale oppure nel caso in cui il questore rifiuta un permesso di soggiorno ad altro titolo deve comunque ai sensi dell'articolo 5,9 del testo unico valutare l'esistenza della possibilità di rilasciare la protezione speciale che rilascia non direttamente rilascia la questura ma la rilascia a previo parere obbligatorio della commissione territoriale questa seconda possibilità quindi del concessione di un permesso per protezione speciale in caso di rigetto di un altro permesso apre un'altra questione cioè a fronte del diniego ad esempio di un permesso per motivi di lavoro la persona potrebbe o impugnare il diniego al tar per le ragioni attinenti al permesso per motivi di lavoro ma allo stesso tempo potrebbe aver diritto a impugnare al tribunale ordinario il fatto che non è stata valutata la protezione speciale la cassazione ci dice in una recente sentenza è impugnabile direttamente il provvedimento con cui la persona la protezione speciale è stata dichiarata inammissibile indipendentemente dal fatto che sia stata interrogata la commissione territoriale e quindi avremo il rischio anzi c'è la concretezza perché è già successo almeno a me di dover fare due ricorsi in due giurisdizioni contro lo stesso provvedimento quindi dicevo la domanda viene presentata alla questura la questura non può fare un vaglio di fondatezza della domanda ce lo dice la commissione nazionale asilo non può neanche andare a valutare se la domanda è simile a quelle che è stata già presentata l'unica cosa può dichiarare inammissibile solo quando mancano i minimi requisiti di valutabilità sostanzialmente la domanda non ha alcuna consistenza la commissione nazionale asilo ha fornito un modulo che ho riprodotto non si leggerà ma da compilare al momento della presentazione della domanda io vi segnalo che secondo me questo modulo è assolutamente insufficiente perché dà una fotografia istantanea della situazione del richiedente non riprende invece quello che è un aspetto fondamentale della protezione speciale cioè la durata del soggiorno e tutto quello che è accaduto in quegli anni e difatti le domande riguardano l'attualità della situazione lavorativa l'attualità della situazione abitativa e non i trascorsi e quindi ben potrebbe essere una persona che fa un lavoro stagionale si trova momentaneamente in stato di disoccupazione dovrebbe scrivere non ha un lavoro invece magari lavora ogni anno costantemente dallo stesso datore di lavoro per un determinato numero di mesi e quindi ha un'integrazione lavorativa anche altro che no la commissione dà un parere vincolante e obbligatorio non convoca il richiedente e non si esprime direttamente sull'esistenza dei requisiti per la protezione internazionale però ci dice la commissione nazionale asilo la commissione comunque ha un obbligo qualora ravveda gli estremi per riconoscimento della protezione internazionale di comunicarla alla questura che a sua volta lo comunica all'interessato poniamoci il caso ad esempio di un ucraino che adesso chiede la protezione speciale in questo caso la commissione nel suo parere dovrebbe dire guarda che però potresti ambire alla protezione sussidiaria vista la situazione di conflitto che esiste nel paese un'altra questione secondo me molto interessante è quella che pone la commissione nazionale asilo in una comunicazione del 7 dicembre 2021 e dice la protezione speciale può essere chiesta al questore anche quando pende una domanda di asilo davanti alla protezione territoriale la commissione territoriale e in questo caso la domanda di asilo per economia procedimentale attrae la domanda di protezione speciale ma soprattutto dice si può fare domanda di protezione speciale al questore anche durante la pendenza di un giudizio sulla protezione internazionale davanti al tribunale e fa un ragionamento molto pragmatico dice beh fondamentalmente vista la durata dei giudizi potrebbe essere che la persona a un certo momento ha i requisiti per chiedere la protezione speciale ma questi requisiti potrebbe perderli in qualche modo nel corso del giudizio e quindi dobbiamo dargli la possibilità di chiederlo questa protezione speciale anche se pende un giudizio sulla protezione internazionale e fin qui tutto bene io mi pongo dei problemi applicativi proprio rivolge al dottor d'oro allora poniamo che questa domanda di protezione speciale venga accolta lì tutto bene il ci sarà una rinuncia in fase giudiziale alla domanda di protezione speciale e la persona decide procedere per le protezioni maggiori oppure rinunciare anche a quelli visto che è soddisfatta di avere il suo permesso dal questore se c'è un diniego noi abbiamo un secondo provvedimento che attiene solo alla protezione speciale che andrà impugnato va impugnato con un rito diverso rispetto a quella protezione internazionale quindi abbiamo una volontaria giurisdizione per la protezione internazionale un 702 bis obbligato per la protezione speciale abbiamo anche delle parti leggermente diverse perché il ricorrente è lo stesso ma nella protezione internazionale abbiamo il ministero dell'interno che sta per il tramite della commissione territoriale anche personalmente mentre nel giudizio sulla protezione speciale la controparte è la questura che è sempre organo del ministero dell'interno ma che si difende con l'avvocatura e cosa facciamo c'è c'è una litispendenza secondo me no potremmo parlare di continenza delle due cause e quindi una possibilità attrattiva quindi di dichiarare la riassunzione del secondo giudizio scusate allora le mie rotelle stanno girando no interessante allora quello che posso dire è prima di tutto questo questo conferma la follia del nostro sistema sezioni specializzate rito 1 e rito 2 tarre ma che solo fra poco la corte dei conti e l'abbiamo fatta chiusa parentesi probabilmente la soluzione è un rapporto di continenza nel senso che il primo giudizio ad oggetto protezione internazionale e anche domanda di protezione speciale mentre il secondo solo protezione speciale mi chiedo nella seconda nel rigettare la seconda non è che la questura barra commissione facciano una nuova valutazione anche dell'insussistenza di presupposti per dare la protezione internazionale no valuta non solo la protezione speciale allora c'è una continenza probabilmente sì di tipo mi verrebbe da dire quanti qualitativo nel senso che sì una domanda raggruppa l'altra non lo so se sia possibile trattarle congiuntamente nella riunione di giudizi perché sono giudizi diversi con due riti speciali e probabilmente allora o si dovrebbero riunire ma poi bisognerebbe capire quale rito sia prevalente probabilmente quello della protezione internazionale sì sarei d'accordo sono tutti e due fortunatamente almeno lì reti collegiali tutti e due si concludono con un provvedimento un decreto sì ma la sostanza è imprendimento decisorio entrambi impugnabili per Cassazione le parti in realtà lì è sempre il ministero dell'interno sia pure con una articolazione diversa quindi sì è una bella sfida lo fa tramite l'avvocatura lo fa tramite l'avvocatura mentre nel primo caso personalmente è no è una bella legata ad appellare potrebbe capitare dopo vi dico qual è un altro problema processuale ma forse ci arriva l'avvocato mason prima di me vediamo allora veniamo a una serie di questioni sollevate dalle prassi della delle questure innanzitutto tutta una serie di requisiti per l'ammissibilità della domanda di protezione speciale che non esistono nell'ordinamento ad esempio la richiesta di un passaporto per chiedere la protezione speciale passaporto che non è neanche necessario per ottenerla per il rilascio perché poi la giurisprudenza su questo ormai è consolidata nel dire che anche per la vecchia umanitaria e adesso per protezione speciale è possibile chiedere il titolo di viaggio io vi ho citato una bellissima sentenza del tar campania del duemila e ventuno la milla e sessantanove che dice il titolo di viaggio è comunque rilasciabile in quel caso era una persona che chiedeva un permesso per lavoro in conversione dell'umanitaria è comunque rilasciabile il titolo di viaggio quando la persona si trova davanti a un'impossibilità di fatto di ottenere il passaporto quindi non impossibilità giuridica anche l'ospitalità di per sé non è necessaria qui abbiamo tutta la giurisprudenza sulla richiesta di asilo che è chiarissima ma un problema piuttosto rilevante che ci si porrà in futuro è quella della convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato dal questore perché una sfortunata secondo me circolare del novembre di duemila e ventuno dice che sarebbe convertibile in lavoro solamente il permesso di protezione speciale rilasciato dalla commissione e questo perché perché dice l'articolo sei del testo unico nel momento in cui rende convertibile la protezione speciale fa riferimento esclusivamente all'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 25 del 2008 peccato che quell'articolo 32 poi fa riferimento per i requisiti sempre all'articolo 19 della protezione speciale quindi abbiamo uno stesso permesso e qui questo sarebbe un problema sulla continenza uno stesso permesso che se rilasciato da un'autorità su sugli stessi requisiti è convertibile se no da un'altra non è convertibile è una palese disparità anche perché a voler fare un po' i polemici come ci piace la stesso riferimento all'articolo 32 lo troviamo al 19 ter del decreto legislativo 150 del 2011 che è quello che disciplina il rito da applicare all'impugnazione della protezione speciale e che ci dice che il rito quello previsto 702 bis obbligatorio va applicato in tutti i casi in cui venga negata la protezione speciale di cui l'articolo di nuovo 32 comma 3 del decreto legislativo 25 del 2008 e allora se noi applichiamo la stessa interpretazione che fa il ministero sulla convertibilità noi dovremmo derivare che la protezione speciale lasciata dal questore è sprovvista di un rito tipico ecco c'è arrivato no allora correttissimo non corretto correttissimo quindi superlativo assoluto del superlativo assoluto corretto quello che ha detto l'avvocato mason vi posso dire abbiamo avuto già qualche caso di diniego diretto da parte della questura riteniamo analogicamente applicabile l'articolo 19 ter pacificamente e vi dico pacificamente solo che ci provino a inventarsi a dire che il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale rilasciato dal questore non è convertibile che ci provino perché se no perché è una è una follia perché no allora no vanno dette le cose come stanno se il legislatore se il legislatore non sa scrivere le norme che abbiamo a roma sono degli analfabeti analfabeti sono degli analfabeti se loro non sanno scrivere le norme non è colpa nostra e non è neanche colpa dei richiedenti asilo perché dal punto di vista degli effetti dal punto di vista delle forme della protezione sono identiche sono o se no se proprio si ritiene la lettera della norma insuperabile si solleva questione di costituzionalità per difetto di ragionevolezza ma io vi dico che se noi solleviamo questione di legittimità costituzionale per difetto di ragionevolezza la corte costituzionale restituisce gli atti dicendoci praticate un'interpretazione costituzionalmente conforme non c'è alcuna differenza quell'inciso quell'inciso nei casi di cui l'articolo potrebbe anche mancare quell'inciso potrebbe anche mancare secondo me non ha senso non ha senso ma come non aveva senso la circolare come non aveva senso la circolare che diceva è iniziale circolare che diceva non si può presentare la domanda di protezione speciale direttamente alla questura e allora io per costruire un capannone devo presentare il comune in istanza per costruire un grattacielo e farmi dire di no vi ricorderete sempre il solito paragone che facevo l'anno scorso e allora secondo me giustissimo quello che ha detto lei è superabile non mi farei neanche molti problemi credo che qualsiasi giudice riterrebbe formalistica allora lì lì è sempre il solito problema della moltiplicazione delle giurisdizioni non è pensabile che la stessa materia immigrazione si debba andare da una parte dall'altra ci deve essere un giudice unico dell'immigrazione è materia di giurisdizione esclusiva che la faccia il tar è un'altra materia che la faccia il giudice ma uno dei due che faccia tutto non è pensabile che noi nel ventunesimo secolo siamo l'unico paese in Europa ad avere interesse legittimo e diritto soggettivo cioè insomma ecco anche lì ne parlavo con l'avvocato barbariol tempo fa si ricorda dicevo sta cosa della pluralità delle giurisdizioni un colpo al giudice di pace un colpo al tribunale un colpo al tar adesso dicevo prima magari solo la corte di cosi perché l'abbiamo fatta tutta facciamo una una unicità di giurisdizione almeno semplifichiamo un'unicità di rito come hanno fatto il tribunale della famiglia che si faccia il tribunale dell'immigrazione anche perché non vedo perché controversi in materia di espulsione devono essere decise faccio un esempio dal giudice di pace che è un giudice onorario mentre l'allontanamento di un cittadino comunitario dovrebbe essere da un giudice poi di fatto a venezia c'è la delega i got che comunque fanno il loro dovere più che il loro dovere va detto cioè sono storture del sistema che andrebbero un attimo risolte comunque la lascio proseguire scusate la mia indettiva grazie condivido pienamente anche la necessità di una riforma organica di che eviti anche questa pluralità e duplicazione di di contenziosi quindi per la protezione speciale negata dal questore il rito è quello sommario di cognizione l'impugnazione va proposta entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego la competenza è della sezione specializzata che giudica in composizione collegiale del luogo in cui ha sede il l'autorità che ha la questura che ha emanato il diniego va presentata un'istanza di sospensiva perché in questo caso non c'è la sospensione ex legge qui c'è un altro problema pratico che io mi sono trovato ad affrontare nel senso che la questura di venezia dice io avevo fatto ricorso su una un diniego di protezione speciale ottengo la sospensiva la questura di venezia dice bene io sospendo il diniego ma non do al cittadino straniero nessuna attestazione della regolarità del soggiorno e questo secondo me è sbagliato poi non solo la questura di venezia per sé perfetto secondo me la sospensione determina la cessazione degli effetti del diniego e quindi il ritorno alla condizione giuridica precedente al diniego in quella condizione giuridica la persona aveva una ricevuta in mano della domanda di protezione speciale con cui non faceva molto ma quantomeno poteva girare liberamente per l'Italia senza rischiare che qualsiasi poliziotto lo potesse fargli un'espulsione per cui cosa si può fare in questo caso l'unica soluzione che vedo io è quella di un'istanza cautelare atipica io in cui chiedo al tribunale oltre alla sospensione di ordinare alla questura di rilasciarmi di nuovo la ricevuta sì quello sì dimostrando che si è provato a chiederlo alla questura alla questura che ha detto perché perché se fatta come si dice se fatta a prescindere da questa cosa viene rigettata per difetto di residualità dicendo hai la sospensiva allora bisogna dimostrare che la sospensiva non basta alla questura se questo effettivamente viene dimostrato credo che qualsiasi giudice qualsiasi tribunale prende in seria considerazione questa cosa insomma probabilmente sì probabilmente sì perché se no il rischio che se fatta subito così il rischio e noi lo facciamo è come tribunale lo diciamo e no tu hai lo strumento tipico che è la sospensione e una volta sospeso torni nella stessa condizione originaria e torni nella tua regolarità tanto che tipico esempio ragazzo richiedente asilo che lavora il lavoro è uno dei tipici motivi per cui noi sospendiamo il diniego di protezione speciale sospendiamo il diniego di protezione speciale questo lo rimette in grado di ottenere un permesso di soggiorno provvisorio e anche di lavorare di proseguire il suo percorso di integrazione cioè è una cosa conseguenziale purtroppo posso capire che la prassi delle questure sia un po' rigidina sul punto però insomma ecco credo che se viene fatta un'istanza tipica motivata sul fatto guardate abbiamo ottenuto la sospensione ma la questura non rilascia il provvedimento è questo è il diniego se non sentano che a casa non sente Marco Paggi diceva giustamente che si tratta di un settecento in corso di causa io potrei anche per evitare di fare tante istanze secondo me io ad esempio ho avuto in una caso identico già una comunicazione della questura che mi dice che non mi rilascia a fronte della sola sospensiva il la ricevuta precedente e quindi anche se attiene un altro caso forse basterebbe dimostrare l'esistenza di una prassi della questura e senza bisogno di fare ricorso la sospensiva anche per non disturbare troppe volte per la stessa cosa il tribunale quindi potrebbe essere anche anche bene le eh sì faticoso molto diciamo l'eventuale eh rigetto del ricorso viene risposto con ordinanza che è impugnabile entro trenta giorni in cassazione e quindi non è appellabile chiudo con un riferimento a la il rapporto tra protezione speciale del regolamento dublino questo perché una circolare del della vigilia di Natale dell'anno scorso di della sempre della commissione del ministero dell'interno dichiara che sarebbe inammissibile la domanda di protezione speciale al questore della persona che sia in attesa della decisione dell'unità dublino oppure sia in attesa decisione del ricorso del ricorso giudiziale contro una decisione di trasferimento e la ragione secondo eh la il ministero starebbe nell'articolo diciannove del regolamento dublino che prevede la competenza italiana nel momento in cui eh la competenza dello stato nel momento in cui lo stato rilascia un permesso ad altro titolo ora però se noi facessimo un'interpretazione del genere questo significa che lo stato in cui si trova la persona che abbia chiesto asilo e che sia in attesa della definizione di un procedimento sul suo trasferimento non potrebbe chiedere nessun nessun tipo di permesso né per cure medico eh pensiamo alla gravidanza non vorrebbe dire che o ha il permesso per attesa dublino o niente e questo non è né previsto dalla questa incompatibilità non è né prevista la normativa specifica sulla protezione speciale né dal regolamento dublino perché se noi andiamo a vedere il regolamento dublino il regolamento dublino fa riferimento esclusivamente alla domanda di protezione internazionale e esatto e fa un riferimento all'articolo 2 come domanda di protezione internazionale fa riferimento all'articolo 2 del regolamento qualifiche il quale espressamente esclude dalla domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto euro unitario tutte quelle domande che sono accessorio che riguardano protezioni interne allo stesso modo il considerato 15 del regolamento qualifiche dice non rientrano nel regolamento qualifiche tutti quei permessi per motivi caritatevoli umanitari riconosciuti a su base discrezionale dagli stati membri quindi parliamo di due procedimenti autonomi quello di protezione internazionale e quello di protezione speciale due tutele autonome e quindi secondo me non è assolutamente legittima una inammissibilità della domanda di protezione speciale quando prende una domanda di protezione internazionale sospesa per la questione della competenza dello Stato italiano o meno detto questo si può impugnare l'inammissibilità l'alternativa è un po' artigianale ma è quella di o non presentare la domanda di protezione internazionale per chi ha rischio di trasferimento e chiedere solo la protezione speciale che come abbiamo visto non rientra nel regolamento dublino e quindi non può portare a un suo trasferimento oppure rinunciare a domanda di protezione internazionale presentare allo stesso momento una domanda di protezione speciale e quindi permettere alla persona di bypassare la questione del regolamento dublino detto questo io ho finito di generale slide ho fatto anche una piccola bibliografia da cui ho tratto tutto il materiale che riguarda che vi ho esposto in questa relazione in cui trovate anche molto di più e vi ringrazio molto per l'attenzione grazie francesco relazione davvero interessantissima